Musica Buonasera a tutti i telespettatori di Lente Ingrandimento Buonasera al nostro ospite, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli, Luca Trapanese Buonasera assessore, ben trovato Grazie Allora cerchiamo di far conoscere ai nostri telespettatori chi è Luca Trapanese Luca Trapanese è già molto noto nel popolo dei social perché ha portato avanti un'esperienza unica credo in Italia L'adozione da single di una bambina con una disabilità Questa storia ha appassionato veramente tutti Sì è una storia che ha appassionato tutti Credo proprio per in sé la situazione di Alba che era neonata è stata affidata in ospedale dalla madre Non mi piace dire abbandonata La madre evidentemente non poteva essere una madre Quindi io ringrazio sempre quelle donne che scelgono con coraggio poi di lasciare i loro figli in ospedale E di dare una possibilità E per la sua disabilità Alba la sindrome di Down non è stata collocata tra le coppie tradizionali Che volevano avere l'adozione Io invece avevo fatto prima della nascita di Alba una richiesta di affido nel Tribunale di Napoli Proprio per un bambino disabile E quando sono stato chiamato sono stato chiamato per Alba che era neonata in stato di adozione E quindi ho accettato questa opportunità enorme L'affido si è trasformata in un'adozione speciale con la legge 44 Con l'articolo 44 della legge dell'adozione Quindi Alba a tutti gli effetti è insomma sua figlia E quindi insomma questa è un'esperienza sicuramente arricchente Noi abbiamo in collegamento da Milano la collega Anna Rita D'Ambrosio del Sole 24 Ore Salve Anna Rita, buonasera Salve a voi Ben trovata Salve a voi, buonasera Allora stavamo appunto raccontando un po' quella che è l'esperienza di vita dell'assessore trapanese È un'esperienza di vita che è stata molto vissuta e condivisa con il popolo dei social ma non solo Un'esperienza che fa crescere indubbiamente anche dal punto di vista professionale Lei è sempre stata un'amante dei viaggi Insomma lei ha avuto la possibilità di girare lungo e largo il mondo E ha sempre però avuto un occhio attento verso i progetti di solidarietà a favore dei più fragili Sì, io ho avuto la fortuna di lavorare a progetti di sviluppo in India e Africa da quando avevo 17 anni E quindi mi sono impegnato proprio con la povertà più vera e anche quella più faticosa E poi ho avuto anche la fortuna di immeggermi nel mondo della disabilità Attraverso l'URD ma poi attraverso la mia esperienza personale dove ho concretizzato una serie di progetti a Napoli E da lì è questa la mia particolarità, cioè che la disabilità non mi ha mai spaventato Non è mai stato un motivo di allontanamento E da lì è nato anche il mio desiderio di paternità e di scelta per un bambino disabile Quindi io non ho fatto un bel gesto Ero pronto, consapevole, preparato, conoscevo la sindrome di Down E questo mi ha aiutato molto nello scegliere Anna Rita Eh, la storia dell'assessore è una storia ovviamente che ha attraversato tutta l'Italia È arrivata anche a Milano Io lo ringrazio molto perché è una storia molto bella la sua Ed è un esempio in tutta Italia e per tutti E l'assessore ha detto una cosa molto bella Che non bisogna avere paura delle diversità Poi l'ha scritto anche in un libro del quale evidentemente parlerete Io la prima domanda che vorrei porgli È quanto ha contato anche il fatto di essere napoletano Questo grande cuore della napoletanità Secondo me questo ha contato Io sono una napoletana trapiantata a Milano Ma insomma io amo credere che forse esperienze come le sue Nascano da un cuore grande E il cuore grande devo dire Proprio perché da vent'anni vivo a Milano Io lo sento di più battere a Napoli che non qui E allora sì sicuramente Napoli è una città faticosa ma straordinaria Noi napoletani abbiamo forse il mare, il sole Adesso non voglio sembrare però che ci aiutano ad essere più aperti È stato possibile forse proprio perché ero a Napoli E forse perché anche il tribunale Era un tribunale all'avanguardia Al tribunale per i minori di Napoli Mi ha valutato come persona, come Luca Quindi i servizi sociali, gli psicologi Si sono soffermati sulla mia casa, la mia rete familiare La mia capacità economica La convinzione di volere un fio disabile E questa è un'apertura che secondo me viene proprio dalla nostra città Cosa le ha dato Alba? Alba mi ha completato Mi mancava un pezzo e Alba è quel pezzo che io adesso ho ritrovato Mi ha fatto diventare padre Essere chiamato papà ed essere abbracciato da Alba Io sono un padre come tutti gli altri Innamorato e forse fregato dalla propria figlia E per me Alba è perfetta così com'è Cioè io se avessi potuto accedere al pari delle coppie Presso il tribunale di Napoli per una decisione Avrei comunque scelto un fio disabile Quindi non è stata una scelta di serie B Ma è stata la scelta E questo è importante D'altra parte insomma il libro Adesso veniamo anche a questo libro Prima poi di parlare di quelle che sono le cose legate Alla nuova sua attività di amministratore Di un comune difficile e complesso come quello di Napoli Un libro Le nostre imperfezioni È un libro che racconta una storia molto profonda Sì è un libro che io ho scritto Perché avevo bisogno di parlare dell'imperfezione della vita Noi siamo in una società che ci vuole per forza proiettare Alla perfezione nel corpo Nel lavoro, nella casa, nella famiglia E non esiste la perfezione Ma esistono appunto gli imperfetti Noi siamo tutti difettati Nessuno si può arrogare il diritto di stabilire chi o cosa è normale E forse noi ai nostri giovani questo dobbiamo dire Non dovete essere i primi Non dovete essere i migliori Ma dovete essere felici E non dovete combattere verso la perfezione Non la troverete mai E in questo romanzo c'è tanto di Luca Della vita di Luca Di una storia d'amore Che può sembrare agli occhi di tutti imperfetta Perché uno dei due ragazzi è disabile Ma la disabilità non è sempre sintomo di infelicità E può essere Anche una persona disabile può essere Agli occhi degli altri imperfetta Ma felice Posso chiedere cosa ha detto la sua famiglia Quando ha fatto questa scelta di vita così importante Così impegnativa Mi ha seguito Sono abituati a seguire le mie scelte faticose Ma mi ha seguito quando Alba è arrivata a casa Era mia figlia e basta Ed è la nipote amata dai nonni, dagli zii Io ho la fortuna di aver avuto una bella famiglia Che mi ha accolto in tutte le mie imperfezioni Non si è mai sentito discriminato perché è omosessuale? No Io non mi sono mai sentito discriminato Ma ripeto Questa è una fortuna Ho incontrato il mio padre spirituale Che è Don Gennaro Matino Che è sempre stato accogliente Una persona straordinaria Una persona straordinaria Avevo 16 anni Ed è il mio secondo padre Come posso dire Quindi io non ho mai dovuto lottare Per essere accolto in quella chiesa Anzi lui mi ha educato Che Dio ci ama così come siamo Siamo figli di Dio tutti Nonostante le nostre differenze I miei genitori mi hanno sempre accolto Mi hanno sempre ricordato Che dovevo essere felice Prima di essere perfetto E quindi sono fortunato Un bel punto di partenza Una bella famiglia Annalita veniamo a parlare Delle cose legate all'amministrazione comunale di Napoli Insomma c'è molto da fare È un impegno sicuramente complicato Ma da dove secondo te bisogna ripartire Io innanzitutto voglio dire Che il Comune di Napoli Ha già vinto ad avere un assessore così Questo lo voglio dire Che dice queste cose E che parla della imperfezione Come qualcosa che non conta Perché è così che deve essere Ma conta la felicità Quindi già io dico Che il Comune di Napoli Con un assessore così ha vinto No io mi sono incuriosita nel leggere Le interviste che ha rilasciato l'assessore Che appena nominato Aveva giustamente tantissimi progetti Che poi si sono fermati Per la mancanza di soldi Ecco la prima domanda Che vorrei fargli è questo Visto che adesso le notizie Che arrivano dalla Capitale Sono notizie positive I progetti potranno partire E da quali allora bisogna partire? Allora sì Ovviamente abbiamo delle belle notizie Il nostro sindaco è stato bravo E sono arrivate le promesse mantenute Io partirei dalla povertà Noi siamo in un momento Di grande povertà europea E le grandi città come Napoli Ne risentono tantissimo E quindi abbiamo bisogno Di dare delle risposte concrete Soprattutto alle tante persone Che vediamo per strada Che non hanno più bisogno Di essere aiutate con le emergenze Ma di immaginare un piano Proprio di accompagnamento E di rinascita di queste persone Quindi immaginare dei progetti Che siano veramente di rintegrazione Di inserimento lavorativo Io sono contro i dormitori Per esempio Ci sono, funzionano, funzionano bene Ma noi dobbiamo immaginare Di creare delle micro comunità Piccoli appartamenti Dove accogliere due, tre, quattro persone E immaginare così Di aiutarli A rinserirli nel mondo del lavoro A capire perché Hanno perso così tanto Della loro dignità E della loro vita E come noi possiamo In un certo senso Ridargliela Certo, insomma È molto difficile Cercare di interagire Con chi vive al margine E riportarlo Volerlo riportare in pista Insomma c'è grande scetticismo Nel momento in cui Si avvicinano queste persone Sì, è molto difficile La gente pensa Che bisogna dare delle opportunità Non bastano Molti mi scrivono Accogliamoli nei dormitori Apriamo le stazioni Non è quello che basta C'è un lavoro enorme Che va fatto sulla strada Un lavoro psicologico Capire Sono persone E ognuno di loro Ha una storia E ha fatto una scelta Ha un vissuto fortissimo E quindi Ognuno di loro Va aiutato Come è giusto che sia Secondo le proprie possibilità Il Covid ha peggiorato Notevolmente La vita di queste persone Sì, noi siamo in un aumento Concreto Del 60% La povertà La maggioranza Ora sono napoletani Molti padri di famiglia Che hanno perso il lavoro Magari Purtroppo Hanno perso la famiglia Perché sono separati Quindi ci sono delle situazioni Collaterali Veramente faticose E dobbiamo fare i conti Con queste persone Quante sono le famiglie povere Stimate in città? Sono tante Non glielo so dire Ma siamo veramente A numeri fortissimi Io le posso dire Che in questi giorni Stiamo distribuendo Dei bonus Per la spesa E siamo arrivati Quasi a 36 mila bonus Daremo anche Dei bonus Legati alle utenze Io ecco Una delle cose Che ho fatto subito E non perdere nemmeno Un euro Dei soldi Che arrivavano Dallo Stato Per l'emergenza Covid Quindi abbiamo dato Bonus per i libri Che non sono quelli scolastici Erano extra Per le utenze Per i fitti Per la spesa E a gennaio E a gennaio daremo Anche quelli Per i taxi Per la mobilità E questo è importante Siamo chiaramente Al ridosso Del Natale Sarà impossibile Organizzare Il classico Paranzo di Natale Con e senza fissa dimora Come però Li aiutiamo A vivere un Natale Comunque più sereno? Noi ci abbiamo lavorato Io ci speravo Di fare il pranzo Con la Croce Rossa Con l'ente Fiera Insomma Cercare di lavorare Per dare un segnale Di ripartenza Purtroppo In questo momento Sarebbe veramente Faticoso E rischioso Soprattutto per quelle persone Che sono fragili E quindi con La Croce Rossa italiana Stiamo immaginando Di portare i pasti Pasti Che si autoriscaldano Di portarli direttamente Noi sul posto E di darli a mano Le persone Che li potranno usare In autonomia E questo mi sembra Una bella iniziativa Anna Rita Assessore I quartieri di Napoli Hanno situazioni Molto diverse Io vengo Da uno di questi Quartieri difficili Che sono i quartieri Spagnoli Che però si sono Alzati un po' Da soli Con il boom Turistico Ecco Quali sono le iniziative Per i quartieri Quali sono I quartieri Nei quali Si può fare di più Perché ci sono Tante associazioni Penso a Scampia Per esempio E piena Di associazioni Che possono Aiutare L'intero quartiere A far rialzare La testa Allora Lei ha detto Una cosa Importantissima Noi Se in questi anni Abbiamo avuto Un'assenza Forte Del welfare C'è invece La presenza Di enti Cooperative Fondazioni Che si sono sostituite Alle istituzioni Io sono partito Da Scampia E ho incontrato 27 organizzazioni Che lavorano A 360 gradi Tra donne Bambini Rom Extracomunitari Tossicodipendenti Da lì Bisogna partire Bisogna partire Dalla valorizzazione Di quello Che già c'è Fortificare Queste realtà Far sentire Far capire Che le istituzioni Ci sono E che Hanno bisogno Di Lavorare A stretto contatto E poi Noi dobbiamo Iniziare a creare La rete Prima eravamo Delle cellule Che impazzite Che camminavano Da sole Dobbiamo creare Un collegamento Con la diocesi Di Napoli Con l'ASL Con la regione Tutti quegli enti Che non possono Camminare Noi dobbiamo Andare insieme Per salvare Napoli Per renderla Una città Sicuramente migliore Certo Lei sta portando Avanti un progetto Importante Il borgo sociale Si può Ipotizzare Insomma Questo progetto In maniera allargata Assolutamente sì Il borgo sociale È un progetto Che io ho realizzato In un piccolo borgo Dell'Alto Casertano Dove Con un gruppo Di famiglie Abbiamo acquistato Delle case Con fondi privati E ci vivono Ragazzi disabili In forma di housing Nel comune di Marzano Appio In provincia di Caserta I ragazzi vivono A gruppi di quattro E lavorano Abbiamo un bar Una fattoria Un bed and breakfast Produciamo miele Abbiamo un asilo Per bambini I ragazzi sono attori Fondamentali Di questo progetto Chi ha un figlio disabile Sa che La fatica più grande È l'inserimento lavorativo La vita autonoma È il dopo di noi Noi a Napoli Abbiamo la possibilità Di avere dei fondi Di avere fondi importanti Sui quali Io già ci sto lavorando Ed è questo Quello che mi piacerebbe Molto fare Rendere Napoli Una città sociale Non solo il borgo E quindi immaginare Che i ragazzi disabili Possano trovare Vita autonoma Inserimento lavorativo È indipendenza Secondo me dovete lavorare Molto anche sulla cooperazione Con le varie municipalità Tutte e dieci Le municipalità Una cosa che forse Ha sbagliato Un punto dove ha sbagliato Nella vecchia amministrazione È la coca collaborazione Con le municipalità Insomma viaggiavano In maniera scollata Invece secondo me La conoscenza del territorio Parte dalle municipalità Assolutamente sì Sono d'accordo E questo già lo stiamo facendo Io sono in strettissimo contatto Con i presidenti delle municipalità Collaboro attivamente Con la commissione Al welfare Che è del consiglio comunale Io credo Ripeto Che noi dobbiamo lavorare Tutti insieme Non ci devono essere Protagonisti E protagonismi Ma dobbiamo Essere dei cittadini attivi Per la nostra città C'è una buona notizia Che Napoli entra nella rete Per l'integrazione Proprio su sua proposta L'aggiunta ha approvato Sì È una cosa molto bella Che io ho voluto approvare subito Siamo tra le poche città Che hanno aderito Dobbiamo essere una città Che integra Proprio perché abbiamo parlato Di Napoli Di quanto è stato per me Facile essere napoletano Ed essere il primo papà Single Gay napoletano Io credo che Napoli Ha delle potenzialità enormi Per essere una città accogliente E lo dobbiamo dimostrare Anche con i fatti Anna Rita Qual è il suo augurio Per questo 2022 Che ahimè Comincia ancora All'insegna Del covid Delle persone positive Che si incontrano Dei tamponi Milano è assediata Da persone che fanno I tamponi Non so quale sia La situazione A Napoli Ma qual è il suo augurio Per questo 2022 Ma io mi auguro Di uscire Da questo momento Di crisi E soprattutto Che questo momento Di crisi Non sia Una scusa Per non fare le cose Quindi io personalmente Ma questa tutta L'aggiunta Di Gaetano Manfredi Stiamo lavorando Sulla progettualità E sull'idea Che Napoli Che il covid C'è Ma che ormai Dobbiamo lavorare Insieme A questo nemico Ma creando Delle cose Importanti Per la nostra città Quindi mi auguro Questo Di progettare E di essere Quanto più concreto Possibile Nel dare le risposte Che tutti ormai Abbiamo bisogno Di avere Assolutamente Insomma il covid In questi due anni Certe volte Insomma è sembrato Anche un po' un avlib In qualche modo Ha mascherato Quelli che sono I veri problemi Ma non parlo Soltanto di Napoli Parlo in generale Insomma Qualsiasi cosa Non si poteva fare Perché c'era il covid Se c'era un problema Era coperto dal covid Secondo me adesso Dobbiamo capire Che il covid È un problema Endemico Per cui ci dobbiamo Convivere Ce l'abbiamo Ormai ci conviviamo Ci dobbiamo convivere Ma dobbiamo Cominciare a vivere Concretamente Con una progettualità Perché altrimenti Se lasciamo tutto Nell'incertezza Non si va Assolutamente avanti Soprattutto in certi settori C'è bisogno di programmazione Le chiedo C'è anche un accordo Tra voi assessori Insomma Vi relazionate in qualche modo Perché la squadra È fondamentale È una bellissima domanda Io sono contento Che lei me l'ha fatta Sì Noi siamo una squadra Dove abbiamo Un nostro gruppo Ci sentiamo Condividiamo i problemi Oggi per esempio Ero in strada Con l'assessore Lieto E De Jesu A cercare di capire Alle torri aragonesi Come dobbiamo risolvere Il problema Della spazzatura Il problema Dei senza dimora Che albergano Su delle impalcature E insieme Stiamo lavorando A tanti progetti Soprattutto il mio assessorato È un assessorato Che si integra Con tutti gli altri Ed è questo Il segreto Secondo me Che ci porterà Speriamo A un'operatività fattiva Di lavorare insieme Poiché le famiglie Che hanno disabili A carico Vivono momenti Di grande difficoltà A volte sono lasciati Completamente soli Durante il covid È stato veramente tragico Per loro poter andare avanti Con tutti i supporti Chiusi Le chiedo Ha pensato anche A un centro d'ascolto Proprio al comune Dove poter concretamente Valutare Le singole necessità Assolutamente Questo centro d'ascolto Già esiste Forse non è potenziato E lo dobbiamo potenziare Ma è chiaro Che oggi Come lei può immaginare Per le famiglie Con le persone disabili Io sono il centro d'ascolto E quindi questo Per me È una cosa bellissima Ma anche una fatica È chiaro Che per me La disabilità È un punto fondamentale Io ho vissuto Il covid E la fatica Di vedere I ragazzi Chiusi in casa E impazzire Insieme alla famiglia E noi abbiamo attivato Una didattica a distanza Con una fondazione Abbiamo comprato 40 tablet Abbiamo fatto Una marea di attività Nelle famiglie Con le persone Con disabili È chiaro Che Napoli Deve diventare Per me Una città Dove la disabilità Non sia più Una differenza Ma sia una grande opportunità Annalita Noi ti salutiamo Ti auguriamo Buon lavoro Ora ti ringraziamo Buon Natale Ci vedremo I bambini I bambini Perché hanno Tanto da dare Cambiare a cambiare Di iniziare Di iniziare Vedere la sua storia Dobbiamo rendere felici I nostri figli Tutte le foto Che noi vediamo Sul suo profilo Instagram Facebook Veramente Insomma Sono lo specchio Della felicità Questo ci fa piacere Le auguriamo Tantissimi auguri Di buon Natale Soprattutto Tanti auguri Ad Alba Arrivederci Grazie Arrivederci a tutti voi Che ci avete seguito L'appuntamento Naturalmente Per la prossima settimana Sempre qui Al lente di ingrandimento Arrivederci Buonasera Grazie Buonasera